eh mi è venuto fame ma ci entrano tutti quanti in bocca secondo voi ma secondo voi ci entrano tutti quanti in bocca oh oh yeah cosi cosi gotturi gado cosi cosi e e e e e cosi 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 gado 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 scorreggio frequenti in base al sito mai personal trainer spesso la flatulenza è causata da un aumento dei processi fermentativi o putrefattivi conseguenti ad errori alimentari di tipo qualitativo e quantitativo altre volte è colpa di farmaci stress ed eccessiva tensione aspetta vedete mi esce oh cazzo mi esce la cacca porco dio